e do il benvenuto al dottor marco rinaldi benvenuto chirurgo orale del presso della dental unit della clinica villalba gvm care and research perché oggi vogliamo parlare di un argomento molto importante che sta a cuore a tanti nostri telespettatori perché insomma il sogno di avere denti sani e forti è il sogno un po di noi tutti e la perdita di qualche dente purtroppo può avere delle conseguenze non troppo piacevoli non solo dal punto di vista estetico proprio dal punto di vista salutare però c'è un però tante persone anziane quando perdono qualche dente voglio dire lascia un po andare non si fanno neanche controllare invece purtroppo questo ha delle conseguenze spiacevoli perché perché intanto una perdita di uno o più elementi dentari da ovviamente la perdita di una funzione oltre all'estetica parliamo della funzione poi è certo che quando i denti sono persi completamente restaura un processo che si chiama atrofia post estrattiva che è praticamente una riduzione dell'osso alveolare diciamo per una mancanza di stimolazione cioè manca il dente manca la funzione l'osso non serve più si riassorbe e quindi piano piano questi pazienti si trovano a non avere più osso questa carenza ossea è evidenziata da la instabilità delle protesi sono pazienti che non riescono a portare le protesi e hanno anche difficoltà a poter inserire degli impianti dentali di tipo standard e per cui io ho detto all'inizio nella teaser iniziale che per fortuna la tecnologia è venuta incontro alle esigenze soprattutto di queste persone perché come lei diceva non a tutte le persone si possono fare degli impianti oppure delle protesi insomma le cosiddette dentiere non tutti e questo è un motivo serio è una sorta di patologia cioè chi soffre di atrofia estrema del mascellare fa molta fatica a portare la protesi inoltre la protesi non sta su perché non c'è osso che la sostiene posso vedere questi modellini per esempio questo questo qui vede che il processo alveolare è completamente scomparso non ci sono più i denti come c'erano in questo caso quindi assieme ai denti si è persa tutto il sostegno osseo quindi questo è un paziente che ha una protesi piatta che difficilmente potrà essere sostenuta e inoltre non riuscirà a mettere impianti standard che oggi sono molto diffusi per cui le tecnologie mi chiedeva sì esatto le tecnologie è andata avanti certo è andata avanti infatti in che modo? in modo perché questi pazienti che soffrono di questa atrofia si sono sempre trattati con innesti ossei e con prelievi da extra orali quindi sono però molto invasivi oppure con impianti zigomatici che sono questi e questi questi sono quattro impianti che sono impianti molto lunghi che sono un'attuale ottima terapia per carità in questi casi che si ancorano al di là della mascella quindi nello zigomo oppure però hanno una loro diciamo così complessità e traumaticità questa invece è una soluzione è il nuovissimo questo questo non è nuovo è questo tipo di impianto che sarebbe un impianto sottoperiostale cioè che sta al di sotto della gengiva ma al di fuori dell'osso a differenza degli impianti standard che stanno dentro l'osso questo è un impianto che fu proposto ancora negli anni del 43 e ha avuto un'evoluzione buona negli anni 50 60 poi è stato abbandonato a favore degli impianti endossei normali quelli che tutti conosciamo questo però perché le tecnologie di allora non erano mature per fare quello che oggi si può fare questo per esempio è un impianto che viene costruito cioè intanto per esempio per questo diagnostico la TAC lei consideri che la prima TAC in odontoiatria è della fine degli anni 80 nello stesso periodo più o meno nell'86 ci fu il brevetto della stereolitografia che è una tecnica che consente di portare un oggetto di costruire un oggetto 3D una stampa 3D e portare la TAC in un oggetto cioè questa è un'attacca resa a oggetto tridimensionale per cui queste tecniche hanno raggiunto un grado di maturazione notevole oggi per cui si possono fare modelli eccetera ecco la stampa 3D e come avviene l'impianto esattamente? questo è un impianto costruito specificatamente sul paziente quindi entriamo nel mondo del custom made cioè personalizzata della medicina personalizzata della medicina personalizzata questo noi inviamo un'attacca del paziente e viene il produttore di questo impianto costruisce questo impianto che è praticamente molto aderente all'anatomia del paziente e viene fissato all'osso zigomatico e ai lati del naso che sono zone di scarso riassorbimento osteo i vantaggi sono sicuramente una minore invasività perché è un impianto che non buca l'osso ma si adagia al di sopra dell'osso quindi sono solo otto viti da osteosintesi quindi la personalizzazione è notevole questo è fatto con un processo di ingegneria inversa si chiama cioè si parte dalla protesi che noi abbiamo modo di evidenziare con l'attacca e l'impianto viene costruito in base al disegno protesico e poi che è un impianto che si può fare in tutti i casi nel senso che essendo un su misura non è l'anatomia del paziente che si deve adattare alla tipologia o agli impianti del commercio ma è l'impianto che viene costruito per il singolo paziente ecco parliamo anche del post operatorio perché magari detto così tante persone si potrebbero anche spaventare quando si parla di osso, di impianto per cui anzi abbiamo detto che non si buca l'osso ma è una sovrapposizione non ti ho capito? Il post operatorio in che cosa consiste? Il post operatorio? Beh questi sono interventi che si possono in teoria eseguire anche l'anestesia locale ma noi preferiamo l'anestesia generale perché dà maggior comfort il post operatorio è abbastanza leggero nel senso che l'intervento dura due ore e si monta tutta la struttura, il paziente esce già con una protesi tipo fisso quindi può masticare una cifo soffice da subito Sente dolore quando si risveglia? Relativo, un pochettino di male sì ma si controlla con degli antidolorifici comuni insomma non è una cosa molto molto traumatica per questo E tutti possono farlo a qualsiasi età oppure c'è qualche divieto? Se qualcuno soffre qualche patologia Il bello di questo impianto è che tutti possono farlo nel senso che essendo costruito su misura non ci sono limitazioni cioè l'anatomia può essere devastata lei consideri che questi impianti personalizzati vengono usati per sostituire mandibole intere per sostituire parti craniche, volta cranica, zigomi, pavimenti orbitali, vertebre per cui è una tecnologia oggi molto attuale sul quale la ricerca spinge tanto e per cui questo vantaggio è che questi impianti si possono fare a tutti però non tutti possono farlo perché ovviamente è un intervento che ha una sua complessità nella sua leggerezza per cui è logico che bisogna farlo a persone in buona salute che possono goderselo per un certo numero di anni e che possono subire diciamo un intervento, un'anestesia generale senza particolari rischi quindi si escludono le persone che stanno male, diciamo di operabili ecco operabili, parliamo di prevenzione, allora i denti sono spesso dimenticati da noi pazienti quanto è importante invece la prevenzione, andare dal dentista in maniera anche più frequentemente non soltanto quando abbiamo mal di denti è importante perché in questi casi la prevenzione è completamente fallita nel senso che non sono più denti, non c'è più osso, non c'è più niente è importante andare a fare visite periodiche specialistiche è importante avere una buona igiene professionale e domiciliare ma soprattutto direi i controlli dagli specialisti questo è importante anche una pulizia curata anche per intercettare la perdita e non ridursi così anche se bisogna dire a onore del vero per i pazienti che soffrono di atrofia che ci sono tante cause per cui non è che è sempre trascuratezza si possono avere traumi, tumori eccetera ci sono altre cause che possono ovviamente influire nella degenerazione dell'osso grazie di cuore, grazie a dottore Rinaldi grazie per essere stato con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti